L'Università di Betremme si arricchisce di un nuovo padiglione destinato alle scienze della formazione. È la prima università fondata dalla Chiesa in Palestina e comprende importanti programmi accademici destinati agli studenti locali. L'inaugurazione del nuovo padiglione fa parte di un progetto formativo più ampio, che coinvolge 118 scuole nel centro e nel sud della Cisgiordania, compresi gli abitanti di Gerusalemme. La missione educativa che si propone è di migliorare la qualità dell'educazione della scuola primaria e secondaria in Palestina, preparando insegnanti che siano ben informati e competenti nel condurre il processo di apprendimento nel contesto di una scuola della comunità. Il progetto promuove in particolare l'educazione ai diritti umani, la parità di sesso, la democrazia, l'identità e la diversità culturale e la protezione ambientale. La realizzazione del nuovo edificio è stata possibile grazie a generosi finanziamenti ricevuti da varie agenzie e fondazioni, soprattutto spagnole. Siamo determinati a sostenere l'iniziativa dell'Università di Bethlehem per preparare i futuri insegnanti al miglioramento della qualità educativa nei territori palestinesi, perché sono convinta che l'educazione è la leva dello sviluppo. Oltre alla rappresentanza spagnola sono presenti al solenne momento i consoli di Spagna e di Stati Uniti d'America, il Nunzio Apostolico e altri rappresentanti delle varie chiese. Ospite d'onore il Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, Sua Eminenza, il Cardinale O'Brien. La prima cosa che Gesù disse ai Suoi discepoli fu «Andate e insegnate a tutte le nazioni». Non disse «Andate nelle chiese o andate a predicare», disse «insegnate». Andate e insegnate a tutte le genti, non solo ai vostri amici o alla vostra nazione o a quelli della vostra stessa religione, ma a tutte le persone. Tra le parole usate da Gesù, non so se Lui utilizzasse la parola «educazione». Quante volte Dio ha chiamato alla conversione, a cambiare il cuore. Ora, questo è il programma di educazione che dovrebbe entrare nell'Università di Bethlehem. Lo studente, al termine del suo percorso di studio, dopo quattro anni, dovrebbe essere cambiato, non solo nelle conoscenze, ma nel cuore. Un cambiamento evidente, un cambiamento di vita. Giovanni Paolo II parlò della legge del dono. Tutti siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, ognuno di noi, nella teoria e nella pratica, e per questo ognuno di noi ha diritto allo stesso rispetto. E parlando di generosità, più siamo riconoscenti e più offriremo noi stessi al prossimo, partendo dalla famiglia. Lo stesso amore che usiamo in famiglia deve riflettersi nel dono di se stessi agli altri. Questa è la legge del dono. E donandoci agli altri, cresciamo noi stessi. Cresce la nostra soddisfazione, la nostra gioia, la nostra felicità e cambieremo il mondo, non solo noi stessi. Da parte sua, il Nunzio, che riveste l'incarico di cancelliere dell'università, è felice che la sua prima visita a Betlemme, come rappresentante del Santo Padre, sia per l'inaugurazione del nuovo settore universitario. Mi pare che questo impegno comune per l'educazione sia una forma magnifica per raggiungere quegli scopi che tutti teniamo davanti, come un qualche cosa a cui dobbiamo arrivare il più presto possibile. Un mondo più unito, un nuovo mondo, un mondo dove tutti possano vivere in pace, collaborando per il bene comune. E l'educazione è certamente la strada, direi, la strada migliore per arrivare a costruire tutti insieme questo mondo migliore a cui tutti aspiriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.